Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su noi, io sono Jack Dolce, facciamo un video di Death Time 2, un gioco gratuito da scaricare a scaricato a prestigio di playstation, ecco una cosa riguardo C'è un video che può saltare dei party al colpo l'Apocalisse perché ci sarà un altro video Se lo fosse ammetto che sarei fiero di te, non voglio rifarlo ma Così? Vediamo qua Ah, come ho saputo se i sistemi di difesa, quindi... Non so se niente tanto Forse è solo la bufera, o forse... cosa dicono i satelliti? Bene... Nulla! Con segno, no? No! Intendo dire che non ci sono! Non ci sono i satelliti! Come faranno andare a vedere i miei video voi, sono dai satelliti! Sì! Ah! Sono davvero il progetto! Ecco perché? Ecco! Ora... Sì! Sì! Sono io! Ora mi imparco! Mi ricordo a Star Trek! Mi ricordo a Star Wars! Mi ricordo a Star Wars! Mi ricordo a Star Wars in questa battaglia! Sì! 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 No! Ce l'hanno fatta! Ma quella è un pianeta? Ed è un... Così pianeta? L'hanno costruito l'oro! E' un... ...micello! Che se lo vado vi c'è il resto! Non voglio anche niente! Ah! È una bella buona! Ma... E cosa fanno? Volevo un farm! Un farm come Star Trek! Che... Fanno entrare... Fanno scavano il muco... Il terro del pentavulcano! Proprio... L'allangiano... Il buco nero che lo assorbe il pianeta! Sì! Che cosa? Sì! E' una buona con la Star Trek! E' andato! Che succede ora? Che succede? Oh? Ah! Devo caricare! volevo dire che avevo già giocato a questo gioco vorrei vedere un po' se è un bel gioco da registrare quasi così e lui a quanto pare comincerò a fare le altre due serie farò una su un planet side 2 e una su far cry 4 un'altra su fortnite mi sa sa pure lì è il mio arcar vai approccio alla torre parla falco della città 723 c'è nessuno in casa? nessuna risposta sui canali neanche sulle frequenze d'emergenza cosa sta succedendo non parla ti ricordi quando ti ho detto di non andare veloce? ecco dimenticano vai veloce vuol stare zitto vuol stare a te puoi modificare quindi quindi non dico se non parla più se non lo voglio fare come in star trek che sembra un incrocio tra star trek che incontra star wars questo gioco è ora sto guardando come yoda quello di star wars anche se carichi iniziamo cavolo che vuolio faccio guardate sentite grande voce è la posizione che guardava il cellulare cavolo 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 l'approccio non ha senso i cavolo conquistano sistemi facendo esplodere i pianeti ciò che stanno cercando deve essere una città qui è il comandante zavala civili rapporto ai punti di evacuazione incontriamoci alla piazza la città non cadrà che città che città che città che città che città che città apri i sesamo ehi voi due un secondo bravo la bala sta facendo l'eroe nella piazza io ho un appuntamento con degli alieni invasori ma sarà molto breve dove è finito dove è finito trova la gamba guarda me 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 ci penserò io queste persone se i cavoli vogliono la guerra servili oh un fucile gli droide star in battaglia la porta le tue doti da r2 d2 quello di star wars guarda che potenza che fa anche se non l'arma è normale vediamo l'acquare qua ma io ho visto che aci star qua star qua dai sai dai cavolo chi c'è chi c'è oh cavolo cavolo dove vado ad andare cercami di fare questo robo può anche calire anche lo scudo muore ciao non ha come un'idea di stare qui qua mi ricordo questo così che era quello che per amici muore 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 un cavolo normale ciao ciao via no muore sta fermo vuoi uccidersi ancora vuoi no un altro no un altro no mi ammazza veramente merda sta arrivando la duca mi ha detto che questo gioco era simile a star track star wars non scherzavo come avete visto no scherzavo come avete visto a star track a star track non mi ha detto non ci sia mi ha detto che è quanto è grossa quella cosa cosa per essere la loro nave ammiragliata cavolo cavolo era dura era più sicuro ma direi che è un problema di cavolo ma altra morto 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 attaccato soltanto la città guarda il viaggiatore acqua del viaggiatore ma non so se una specie di satellite hanno costruito quello del gioco oppure un pianeta se vede nei commenti perchè è troppo vicino per essere un pianeta non c'è quello capito c'è una specie di soluzione nel gioco c'è vedere che erano dei una piazza mineraria in modo che non ok il mio spettro classifica questi cabal come la legione rossa icora idee solo voci una fazione d'élite dei cabal ciecamente fedele al loro comandante fino a oggi oggi affronteranno i guardiani ma non importa stanno attaccando il viaggiatore dobbiamo agire ora il viaggiatore può aspettare dobbiamo proteggere i civili a tutti i costi poi andiamo ma un attimo è stato appunto di prima? si magari lo perterò con le le cunicoli vai giù 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 cavolo è quello stesso è una cosa così io farei questo che mi nasconderai lì in quel punto lì il viaggiatore ma cosa gli hanno attaccato è una cosa che per me se mi resta treppi io lo farei a cuore quello che mi ha detto io lo farei a cuore io lo farei a cuore ci sono degli altri eeeh ho un po' collato sta zona va bene ho messo tutto ho messo tutto però c'è un' abilità tuttissima daaaah daaaah la legione rossa è ben addestratta ma noi siamo più forti resisteremo fino a quando l'ultimo civile sarà in salvo questo che erano le ondate ah arrivo in traccia del mio scudo no mi sto bombardando no sono morto non lasciarmi passare le navette di evacuazione sono lì dietro no siamo bombardati e non ci vuole guarda 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 un po' un po' un po' di musione muore, muore, muore resistiamo, la nave ammiraglia è la prossima sulla vista qual è che è l'alcolta nel gioco? non dovrebbe, non sarà già come un certo non dovrebbe essere un rinco un bombardamento, questo bombardamento, mi che pare no, per questo sì, ma perché fai un salto così in lento? che è proprio un salto così in lento? vai tranquillo, se l'avevo massaggiata è trovato massaggiato con il metro apocalisse muore si ma movingura per rinda rit low grazie 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 Zabala, l'ultima navetta è partita Ma l'oratore non era a bordo Vado a cercarlo Io penso alla piazza, vai con Icora, trova l'oratore Sarà fatto comandante Andiamo Noi 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 Ah, la raguera è po' inizia Adesso non so' andare Siamo andare lì qua And Ciao! L'oratore è sparito! Spettate! Sto bene, ho appena ammazzato i vostri mini! Mi permetterò di dividerci e non mostrerò nessuna pietà! Dai! Zabala! Sono sicuro che troverà l'oratore! Ora raggiungiamo la nave ammiraglia! Dirigiti alla torre nord! Invio Amanda Olliday a recuperarti! Ciao! Qui stai? Chi dispiare la prontata? Dai! Qui hai già così, se non succederai nella tua scatia? Qui ci sono di fissi, spie! Qui ci ha di prendo l'ora? Nassù? C'è una scatia? ho l'idea in arrivo dobbiamo allontanare quella nave dal campo ecco lo stai usando il suo punto debole il suo punto debole quando vola quando vola muori mi dicono che ti serve un passaggio dai Zavala ho qui con me la nostra fonte di salvezza raggiungete la nave ora tieniti forte dai ragazzone fa qualcosa dai dove andiamo dai si è vero che è bello tutto il ragazzo è il gioco del secolo ok ci siamo adesso va a distruggere qua ho detto gratis però non mi sa che pagamento dai 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 no 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 facci sapere quando gli scudi sono disattivati e colpiremo la nave con tutto ciò che abbiamo nulla no 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 l'ologramma ci aiuterà diamo un'occhiata portami alla console ritroveremo la planimetria della nave dunque il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave non ti buttare ciao, come state? vieni, ciao dai, dai, morite ah, ciao, come stai? ho notato un tuo amico, non so se era un tuo amico io sono dell'altipa, ma ora forse lo vai a incontrare ok, la nonna è no, non sta più perleta su puoi perleta un giro che mi attravi oh guarda che sei morto non so che è un po' morto ok com'è la situazione sono a corto di munizioni la mia pistola fiammeggiante si sta esaurendo notizie dai cora nessuna da quando è andata a cercare l'oratore informazione avvicinatevi a me cavolo quanta gente benza lo scochi ti sono anche qui ora lo scochi lo scochi perciò quindi Uri cazchini, l'era ti! Morri! Non morri, non è vero! Grazie! Quattro! 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 no 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 vita rossa ciao 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 no 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 Eeeh, in fondo c'è quello che mi ha contato Quasi per me ne è che non mi ha contato Ciao, come state? Ciao, ti do! Mi piace, ti ho vinti prima E l'incontro nel mio nome non è stato tanto bello Oh, sto con il pubblico per la pagina Non c'è, non c'è Non c'è, non c'è Non c'è, non c'è E' qua, aiuto! Però ci sta sta, dimenticato Ciao! No, se ne ha un altro qua Ho fatto un mega ballo su un secondo, rego Non credo, l'altro Non credo E' un troppo Dove ho fatto un mega ballo su un secondo Io ho fatto un mega ballo su un secondo Non credo, ragazzi Non credo, ragazzi Se non ho fatto il quadro La cosa è che è che l'ho riuscita Quanta gente però Vediamo Guarda 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 Ciao, benvenuto. Dai, guarda, guarda. Dai. Guarda, 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 guarda. No, quando non l'ho giocato, l'ho giocato cosa. Ecco Dio. Dai, bucci. Dai, avanti. Mi ha fatto un po' di roba. Ma volete scusi anche te? Muore allora. Ma è vero. Ma c'è da un po' di gente. E' un po' di gente qui. Che coach! Dai. Morite! Morite, morite, morite. Come, non posso, non posso. Va bene. Distruggi le turbine e gli scudi si dissiperanno. Dai. Non è vero, non è vero. Però che non si può dire anche lui. Perché anche lui non capire. Dai, morite. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Si. Grazie. Non è vero. Non è vero. Lei è vero. cavolo non ce l'ho fatta la croc prima ma ce l'ho vedato dai ora però dai 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 la temperatura si sta alzando funziona dai no buttati buttati autosopat probabilmente era un casino se la devo guardare questo suez c'è c'è ce l'abbiamo fatta gli scubi sono disattivati c'è 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 h stiamo per uscire amanda ciao ragazzi